Benvenuti a Coldorcia, siamo sulle falde della zona sud di Montalcino, quasi una terrazza che guarda sul fiume Orcia, questo territorio che è coltivato da secoli. Qui a Coldorcia abbiamo degli olivi secolari, degli olivi di più di 400 anni, già piantati a filare, a dimostrazione che il clima così unico, così speciale di queste zone sud di Montalcino erano riconosciute già secoli fa ed era già una conduzione agricola per produzione che andava al di là dell'autoconsumo. Perciò siamo molto legati a questo territorio specifico e alla storia di Montalcino, qui a Coldorcia. Pensiamo che l'essenza vera del Brunello sia la sua capacità di invecchiare, la sua capacità di migliorare nel tempo ed è per questo che sono qui circondato da tutte queste bottiglie di vecchiannate, bottiglie che hanno 20, 30, 40 anni e che raccontano un po' la storia delle persone e del passare del tempo qui a Montalcino. La tradizione di Montalcino vuole le bottigrandi, vuole questo processo di affinamento del vino lento, silenzioso, nella freschezza delle cantine, nelle bottigrandi come quelle che mi circondano. Per cui è importante lasciare al Brunello, lasciare a San Giovese di Montalcino il tempo di evolvere, il tempo di respirare, il tempo di sentire il passaggio delle stagioni, il caldo dell'estate, il freddo dell'inverno in queste grandissime botte, alcune delle quali possono contenere fino a 20.000 bottiglie e lasciare che il tempo faccia il suo lavoro per il miglioramento, per l'affinamento di questo vino. Ecco, qui in mano una bottiglia di Brunello di Montalcino dell'annata 1971. Una bottiglia che ha più di 40 anni, una bottiglia che è l'espressione del successo di Montalcino. Quando mi viene posta la domanda, ma com'è che Montalcino è diventato il vino più famoso d'Italia, il vino più importante d'Italia? Ebbene, il segreto sta nella longevità, nella capacità del San Giovese qui di Montalcino, San Giovese che chiamiamo Brunello, di migliorare nel tempo, un po' come me, più invecchio più divento buono.